Oggi è uscito il teaser trailer di Ant-Man! Ant-Man! Nuovo film della Marvel che si unirà al Cinematic Universe e adesso lo sto per vedere! Buttana se lo vedo! Scott. No! Ormai è da un po' che ti osserva. Senti che pathos! Buttana che pathos! Tu sei diverso. Sì, sì. Un reietto. Non permettere mai a nessuno. Spero di dire che non hai nulla da offrire, figlio. Non permettere a nessuno! Non è detto che potrai avere una seconda occasione. Buttana che grossi, Michael! Mi riesco di considerarla attentamente. Non sei convincible a che faccia, ma... La propola faccia incaffa! Parasi costruirsi, cazzo! Buttana cosa! Questa è la tua occasione. Tu lo vuoi non sfraccarla! Di meritarti quello sbaglio di tua figlia. Riscattati! Di diventare l'eroe. Motivati, motivati! Che lei già pensa tu sia. Sì, tu sei il babbo, super babbo, mini babbo! Cattivo. Non si tratta di salvare il nostro mondo. Vangelin! Vangelin Lilly, ma non è col caschetto! Ma di salvare il loro. Comunque sia tu, dirgli sì, Jack. C'è Vangelin Lilly. Ma non è col caschetto, dirgli sì. Ho bisogno. Annuisci. Che tu sia Ant-Man. Tono, dirgli di sì. Vengo io! Michael, prendi me! Sì, sì, no? Sì! Oh, spero, è mio! Camminoni! Camminoni! Io prendi a te! Tono, boia! Puntano, gatti! Bacconi! Bacconi! La spaca! Tono, maggiorin che besta! L'ervenzio, 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 l'ervenzio! Ant-Man! Sì, ciao! Ciao, io sono il luogo for me che sei Ant-Man, santo Dio! Cosa cambia? Cosa cambia? Ma li leggi i fumetti! Devi leggere i fumetti prima di fare Ant-Man 2015! Puntano se dormo al cinema nel 2015! Tutto il giorno al cinema! Dormo al cinema! Mangio popcorn! Cinema 2015!